Il tema della pensione anticipata con quota 100, 38 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica, entra nella sua fase operativa. Dagli uffici IMSS arrivano i primi dati sull'affluenza, ma anche i vari patronati, in particolare il patronato Inca della CGL della provincia di Pescara, hanno dovuto far fronte a una grande affluenza di lavoratori ed utenti che chiedono informazioni sulla sussistenza delle condizioni di accesso alla cosiddetta quota 100. C'è una grande domanda di informazione per verificare il diritto a poter presentare una domanda di pensione anticipata con quota 100. Noi da ieri pomeriggio l'IMSS ha aperto le procedure per cui come patronato Inca della provincia di Pescara abbiamo ricevuto veramente una marea di richieste, una marea di gente che viene a chiedere la verifica della propria posizione contributiva per poter accedere a questa grande possibilità. Noi siamo preparati in tutti i nostri uffici, nei maggiori centri della provincia di Pescara per poter soddisfare con competenza, capacità, professionalità e passione quella che è un'aspettativa molto grande da parte dei lavoratori e degli utenti. Intanto stamane presso la Camera del Lavoro della CGL di Pescara si è svolto un corso di formazione tenuto da William Zanoni, uno dei maggiori esperti nazionali in campo previdenziale, già consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del Lavoro. Conviene davvero accedere a questa opportunità di quota 100 stando insomma un po' a tutti quelli che sono i rivoli di questo provvedimento? Noi facciamo una consulenza a 360 gradi e quindi facciamo comunque una verifica. Certo che chi già dal 31 dicembre del 2018 ha compiuto 62 anni di età e ha 38 anni di contributi e comunque trova conveniente per la domanda di pensione, noi siamo a completa disposizione. Ti posso dire con tutta tranquillità che già stamattina abbiamo ricevuto le 50 telefonate per cui presumiamo che domani mattina saremo letteralmente invasi da lavoratori, utenti che verranno a chiederci di poter accedere a questa grande possibilità.